Partiamo con Cinema Champions salutando Maria Grazia Celardo. Ciao Maria Grazia, benvenuta. Buon pomeriggio Fabio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e tifosi del Napoli e di Radio Punto Zero. Pronta a presentare l'ospite che è già in collegamento con noi, ovviamente con lui si parlerà tantissimo inevitabilmente anche della gara di questa sera. Prontissima, una puntata tutta da Champions, quella di oggi e direi tutta in attesa di quello che sarà lo sconto di stasera, come anche tu poco fa sostenivi. Nell'arena di Madrid scenderanno in campo i nostri toreri che troveranno a matare il Real. E allora noi di Cinema Champions non potevamo che ospitare un personaggio che un po' di tempo fa si è divertito a lanciare un laccio al collo dello spagnolo ex di casa Napoli e che oggi, nonostante la lontananza fisica perché è impegnato a Parma in una tornecchia tra le fonsiani, si unirà a noi in una simpatica preghiera nell'attesa di stasera. Diamo il benvenuto a Lello Mosella. Ciao Lello. Ciao. Ciao, come va? Tutto bene? Bene, bene, bene. Tutto bene, Lello? Tu? Eh, io tutto bene qui. Si soffre un po' il freddo, però fortunatamente è uscito il sole in questi due giorni di Parma, ma a Torino, siamo stati a Torino, c'è una nebbia e tanta pioggia. Diciamo che sto cominciando già a sentire la nostalgia del sole di Napoli. Senti, ma che aria tira il giorno dopo San Valentino? Ma che aria tira, qui siamo tutti in attesa della partita di stasera, anche se purtroppo forse riusciremo a vederla in un piccolo tab, perché siamo comunque in scena alle 21, quindi sarà un po' complicato vederla proprio a Caniti, lì vicino allo schermo. Ma ci proviamo e ce la guardiamo comunque dando la nostra forza, diciamo, dell'amore per la nostra città, ma soprattutto per la nostra squadra. Lello, ma secondo te a quale santo possiamo votarci per stasera? Eh, ma stasera vinciamo un 3-0 proprio. 3-0 ce l'auguriamo tutti. A proposito anche del principe abusivo e della tua turnetta etrale, chi sarà secondo te il principe azzurro in campo? Ma io questo non lo so perché comunque i giocatori stanno giocando tutti bene, quindi gli attaccanti sicuramente saranno fuori. Io spero in un merdez perché a me piace molto, non so se è in campo stasera, ma comunque... Assolutamente sì. Sì, quindi speriamo che ci faccia almeno il regalo di una doppietta. Grande! Sempre a Cinema Champions noi facciamo ai nostri ospiti il test del sangue azzurro e quindi sottopongo anche te a questo martirio. Quali sono i tuoi miti e quali sono i tuoi riti come tifoso? Ma come tifoso io... è un rito diciamo della... è una preghiera che faccio ogni volta che inizio anche a fare lo spettacolo e sono... va bene... È una croce fatta tre volte che è così e poi è un bacio in cielo che Dio ci assisti sempre e quindi lo faccio anche quando guardo la partita del Napoli che faccio questa piccola preghiera per avere diciamo la forza di... L'energia più che altro per donare energia a chi ne ha bisogno per la partita ma soprattutto anche io quando sto sul palco c'è bisogno di questa adrenalina, questa energia pulita, questa energia pura che ti porta poi a fare cose straordinarie. Quindi credo che questo è il mio mito poi vabbè il mito si parla di miti anche vecchi no credo vabbè ma la tua penso che a tutto quanto... Almeno chi ha vissuto come me la vittoria diciamo del primo scudetto del Napoli dopo 61 anni credo che è la cosa più bella no vedere comunque una città che si muove con questa... Con questa vittoria mai vista prima d'ora io penso che sia questo il mio mito e Maradona vabbè all'epoca c'era anche Careca, Giordano, Carnevale ne ha fatta e ne ha fatta insomma però comunque era uno di quei... Carella che parava che vieni insomma c'erano tutte... Qualcuno diceva anche Carella pare pure con un aso che c'era un bel... È vero è vero Lello ma tu che di miracoli un po' te ne intendi visto che c'è stato anche un chiarichetto oltre nel film di sei anni si accettano miracoli. Cosa pensi tra campionato e Champions? Qual è il miracolo che è più possibile? Ma il miracolo io spero più che di un miracolo di una buona riuscita proprio della squadra perché vedo che comunque sta giocando molto bene, porta i risultati a casa. Quindi il campionato noi sappiamo che in Italia ci sono... si spendono, si investono molti soldi per le squadre quindi diciamo forse spero più di vincere la Champions perché sono scudetto e siamo un po' comunque ci sono altre squadre sappiamo bene che sono forti e quindi potremmo avere problemi di non riuscire a vincerlo. Però spero nella Champions, a questo punto faccio le preghiere... io faccio le preghiere per tutte e due comunque come Ultras però spero nella Champions. Bene noi ci uniamo a te allora in preghiera spiritualmente. Tu prima parlavi del passato e io so che tu sei del 1974 ma che ricordi hai della prima sfida con il Real Madrid? Ma della prima sfida non è che mi ricordo molto perché ero piccolino però mi ricordo invece di una grande... questa grande vittoria appunto del Napoli dello Scudetto Napoli fu dipinta proprio dello Scudetto di questo tricolore ma dell'azzurro, macchine tagliate, più di 10 in una macchina tipo 500, 600, 127 nell'epoca che dipinsero tutte di azzurro e nelle strade c'erano tutti questi disegni di Maradona. La gente che... insomma è stata una cosa che non si è più ripetuta anche l'anno dopo che comunque... anzi dopo i due anni che poi è ritornato lo Scudetto c'è stata diciamo... c'è stata una festa, una grande festa ma come è stato il primo Scudetto ripeto è stata una cosa... io l'ho vissuta che mi ricordo mi affacciavo a Bascone e vedevo tutte queste macchine, tutta questa gente che mi sembravano impazziti, è stata una gioia immensa anche se ero piccolo ripeto. Con i Real Madrid purtroppo non ricordo, non ricordo quasi niente diciamo della partita. Non ti posso aiutare, posso fare sempre le mie preghiere come faccio per stasera. Lello ti aiuto io, sicuramente la città è rimasta dello stesso colore, cioè di colore azzurro anche in questa occasione. Senti, io e anche gli altri della redazione su Facebook abbiamo postato il tuo video, quello in cui tu ti rechi appunto a casa di Higuain a Torino e gli regali un cosiddetto bel laccettino, ma se Higuain invece tornasse a Napoli e tu dovessi scrivere uno striscione allo stadio, cosa scriveresti? Ma guarda, lì è complicato perché comunque farlo ritornare sarebbe anche, diciamo, nella realtà proprio dei fatti direi, non so, non tornare ma non segnare. Questo potrei dire, non tornare ma non segnare. Sei tremendo. Lello ti ringrazio, ti faccio anche un grande in bocca al lupo perché lo annunciamo da martedì, ritorna anche Made in Sud con grandi novità. Amadeus, Gigi D'Alessio, ma cos'altro bolle in pentola in Rai? Ma guarda, lì ci saranno sicuramente molti ospiti, io purtroppo, ripeto, sono un po' distaccato almeno quest'anno come l'anno scorso che non ho potuto fare questa partecipazione perché sono in tour con Alessandro da, adesso facciamo quasi due anni, quindi fortunatamente c'è lavoro, si lavora però quello che bolle lì non lo so, spero che non si scuocia, spero che non si ammolla poi lo spaghetto che bolle in pentola. Io credo che comunque non sarà come sono stati quelli precedenti perché mancheranno comunque dei pilastri come Gigi Ross e come altri attori, non sto a dire, perché comunque ci saranno molti meno rispetto a quelli che c'erano prima, le novità non le conosco. So che comunque faranno uno spettacolo bello perché comunque alla fine è comicità, quindi la comicità fa sorridere, fa stare bene gli altri. Quindi un programma comico, anche se si è un po', diciamo, distaccati, ci sono distaccati alcuni, comunque alla fine credo che comunque un programma comico faccia sempre bene al pubblico e alla gente. Grande, Nello. Fabio vuoi aggiungere qualcosa dallo studio? No, io in realtà volevo concludere con una battuta, volevo chiedere a Nello se gli scappassi una canzone per la partita di questa sera oppure no. Ah certo, vabbè io faccio le solite canzoni, mi scappa la canzone. Ecco. Posso dire, vabbè io ce n'ho una brevissima, così facciamo per la partita di stasera, io dico sempre, c'è una canzoncina che facevo però non posso farla con la chitarra, devo fare a voce così e la canzone fa, la canzone se il titolo è presto. E' presto? Allora venga a Rob, grazie! Grande, Nello Musella. Speriamo possa essere di buon auspicio per questa sera. Sì, sì, stasera sicuramente faremo, vi vedo, c'è bisogno di tanta energia, tutti quelli che sono davanti alla tv mettetecela tutta, concentratevi, guardate sempre lo specchio della porta dove dobbiamo segnare, la palla cercate con gli occhi di buttarla sempre dal lato opposto della nostra porta. Perfetto. Quindi spero tanto che stasera festeggiamo come festeggiamo il Natale, come festeggiamo anzi il Capodanno, perché il Capodanno si deve fare meno 3, meno 2, meno 1 e poi si buttano fuori tutte le botte e tutti i fischi. Quindi stasera sicuramente gioiremo per questa vittoria. Speriamo bene. Grazie, grazie, Nello Musella per essere stato con noi in Bocca al Lupe, buon lavoro. Spero io, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ciao, Nello, grazie. Ciao. Maria Grazia, grazie anche a te come sempre per Cinema Champions, l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, un saluto anche da Pattenia Sebastiano che ci segue sempre dalla regia e mi raccomando tutti concentrati anche in preghiera per la sfida di stasera. Forza Napoli!